Tre colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata che hanno raggiunto la vittima fra il torace e l'abdome. Così è stato ucciso il 43enne Giuseppe Tupputi, freddato a colpi di pistola la sera dell'11 aprile scorso all'interno del suo bar, il Morrison Revolution, alla periferia di Barletta. Lo ha stabilito l'autopsia cominciata questa mattina a Bari e conclusasi nel primo pomeriggio da parte del medico legale Sara Sabbione, confermando di fatto quanto già è emerso dalle prime indagini sul cadavere avviate nella giornata di ieri. Per il delitto è tuttora rinchiuso in carcere un 32enne pregiudicato, Barlettano Pasquale Rutigliano, accusato di omicidio volontario, porto abusivo di arma da fuoco e violazione della sorveglianza speciale. In base a quanto è emerso dall'esame autoptico, il killer ha fatto fuoco da una distanza di pochi metri, con i proiettili che hanno raggiunto organi vitali fortemente vascolarizzati, fra il cuore, causando così una forte emorragia che si è rivelata fatale per la vittima. Il delitto sarebbe maturato nel corso di una lite scoppiata per futili motivi tra Tuputi e il suo assassino, dopo che questi aveva chiesto una birra al barista. Intanto, sempre nel pomeriggio di oggi, sono stati affissi anche i manifesti funebri che annunciano ufficialmente il giorno delle esequie, fissate per martedì 19 aprile alle ore 16 nella parrocchia del cuore immacolato di Maria, dove la salma verrà portata a partire dalle 10 del mattino. Nel frattempo sono state moltissime le manifestazioni di vicinanza arrivate, anche attraverso i social network, ai parenti della vittima e in particolare a sua moglie Giusi Musti, madre di due figlie. Attraverso l'avvocato Francesco Piccolo è stata avviata una raccolta fondi in favore della famiglia per fornire un aiuto economico alla giovane mamma e alle sue due bambine, una di otto anni, l'altra di appena sei mesi. Grazie a tutti.